ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it nella scorsa lezione abbiamo visto come aprire il pannello colore lumetri quest'oggi vedremo invece come utilizzarlo vi ricordo www.fabioambrosi.it per leggere gli articoli di queste lezioni vi invito se volete ad iscrivervi a questo canale youtube per non perdere anche i prossimi tutorial e cercatemi su facebook mi trovate come fabio ambrosi la pagina mi raccomando la pagina perché lì probabilmente sicuramente nelle prossime settimane usciranno importanti novità che riguardano questo corso più avanti nei prossimi mesi faremo qualche sezione live per permettere direttamente a chi ha domande di farle in tempo reale ma ne riparleremo nelle prossime settimane torniamo a premiere torniamo alla color correction dopo aver aperto il pannello colore lumetri è giunto il momento di utilizzarlo come fare bene innanzitutto dovete selezionare in timeline la clip che volete è venga coinvolta nella color correction quindi cliccate sulla clip vedete che i parametri del pannello colore lumetri vengono accesi c'è un altro metodo però per poter selezionare velocemente le clip nella timeline mentre fate color correction che è quella di attivare la voce vediamo se la ritrovo la voce la selezione segue la testina di riproduzione io ce l'ho già accesa e che cosa fa questa voce a mano a che voi vi muovete con il cursore temporale nella timeline premiere si preoccupa di selezionare le clip coinvolte al posto vostro è molto comoda questa funzione per risparmiare tempo per attivarla come detto dovete andare nel menu selezione e attivare la funzione la selezione segue la testina di riproduzione ma non solo dovete assicurarvi che in timeline le tracce siano selezionate se le tracce per esempio questa non fosse selezione accesa ecco quando voi muovete il vostro cursore non avviene nessuna selezione la selezione avviene solo sulle tracce accese quindi accendete tutte le tracce che volete coinvolgere nella selezione in tempo reale accendete la funzione dal menu sequenza e muovetevi con il mouse e vedrete che la vostra clip verrà selezionata automaticamente a mano a mano vi muovete state però molto attenti che di volta in volta venga selezionata la clip giusta perché se avete una situazione tipo questa o anche più complessa vedete qui facciamo finta che questa clip sotto sia ecco posizionata in questo modo io chiaramente muovo la testina di riproduzione viene selezionata sempre la clip più in alto nella timeline quindi prestate sempre molta attenzione a come viene effettuata la selezione ma è una funzione che io trovo molto comoda potete attivarla tranquillamente tornando al pannello colore lumetri una volta selezionata la vostra clip vedete che vengono accesi i parametri che vi permettono di modificare il colore della vostra immagine il pannello colore lumetri è diviso in diverse sezioni a seconda del tipo di lavoro che dovete fare nella vostra color correction la prima sezione chiamato correzione di base la sezione correzione di base vedete che è un insieme di più blocchi in realtà ci sono più parametri molti parametri questo in questa sezione ci permette di iniziare la nostra color correction saltiamo questa prima voce che è la luta di input molto utile per chi lavora con le luce ma è un argomento un po avanzato che per il momento tralasciamo e andiamo subito alla voce seguente che è il bilanciamento del bianco bene il bilanciamento del bianco adesso è inutile che entriamo troppo in tecnicismi comunque è il responsabile della temperatura della nostra immagine semplifichiamo tanto in questo modo se volete scaldare la vostra immagine per esempio spostate questo cursore temperatura sulla destra vedete che l'immagine cambia colore diventa a mano a mano più calda se volete invece raffreddarla fate il contrario date verso sinistra e vedete che automaticamente l'immagine perde calore e assume temperature e colori un pochettino più glaciali mettiamola in questo modo la sezione successiva la voce successiva e la voce tono qui ci sono dei valori che chi è abituato a lavorare con le immagini probabilmente già conosce quindi potete modificare l'esposizione il contrasto le luci le ombre i bianchi e chiaramente i neri ora facciamo un esempio posso aumentare un pochettino l'esposizione aumentare un pochettino il contrasto magari posso diminuire un pochettino un pochettino le luci perché no posso aumentare un pochettino le ombre vedete come tornano alcuni dettagli aumentando le ombre che prima altrimenti erano erano meno presenti vedete le piume di questo uccello piano piano prendono prendono vita potete modificare chiaramente i bianchi togliamoli un pochettino e chiaramente giocare anche con 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 i neri prendeteci mano come già detto in passato è solo una questione di esperienza e di studio la color correction è molto 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 complicata parleremo nei prossimi tutorial anche degli strumenti per leggere le immagini in parole parleremo vediamo se lo troviamo nel volo eccolo qua dello oscilloscopio lumetri e anche di altri strumenti che ci permettono di vedere tecnicamente che cosa avviene avviene nell'immagine che stiamo che stiamo modificando tornando ancora al nostro pannello ci sono altre sezioni la sezione creativa potete applicare non so un virare l'immagine in un colpo solo verso una una un colore piuttosto che un altro partendo ovviamente dalla tinta dell'ombra piuttosto che dalla tinta della luce quindi potete modificare le luci e le ombre direttamente in maniera separata scendendo ancora trovate le curve che sono molto belle ho fatto un tutorial l'anno scorso su questa nuova funzione di adobe premiere che permette di modificare il colore in maniera molto selettiva per esempio immaginate di voler tenere questa fotografia in bianco e nero e di voler avere accolorati soltanto gli occhi forse un po di becco di questo uccello come fare bene selezionate il range di colori per esempio da questo prima curva che si chiama tonalità saturazione che va dal verde fino al viola ad esempio fino a qui abbassiamo tutto abbassiamo tutto e vedrete che soltanto la parte del becco e degli occhi di questo uccello conservano i colori mentre il resto viene praticamente trasformato in un'immagine in bianca e nera modificando ancora questa curva potete rendere questa selezione ancora più drastica in questo caso abbiamo soltanto gli occhi e questo pezzettino di testa qui questo per dirvi che è molto potente lo strumento delle curve guardate il tutorial che ho fatto ad hoc per avere maggiori informazioni sotto ancora avete altre tre opzioni per la color correction secondaria tra queste vi segnalo questa voce che è HSL che è un po' uno strumento che veniva utilizzato per fare la stessa cosa che ho fatto qui con lo strumento delle curve quando non c'era lo strumento delle curve quindi potete selezionare un range di colori e modificare direttamente la temperatura la saturazione e altre cose direttamente basandovi su una selezione precostituita non vado troppo oltre perché lo ripeto questo non è un corso di color correction è un corso sugli strumenti che abbiamo in Adobe Premiere per lavorare con la color correction prima di chiudere però voglio farvi notare una cosa molto velocemente che in realtà il pannello colore lumetri non fa altro che applicare un effetto alla nostra clip cioè non sta facendo nulla di particolare se noi apriamo il pannello controllo effetti vediamo che in fondo alla lista degli effetti troviamo la voce controllo lumetri se io andassi a rimuovere l'immagine tornerebbe esattamente come era prima perché quando io modifico un parametro di questo pannello del pannello lumetri del colore lumetri vedete che automaticamente Premiere aggiunge un effetto quindi per rispondere alla domanda che mi viene fatta spesso come posso modificare la color correction ad un'intera timeline oppure posso applicare la stessa color correction a più clip assolutamente sì basta selezionare lo strumento colore lumetri effetto colore lumetri nel pannello degli effetti ctrl c per selezionarlo per copiarlo scegliere un'altra clip che si vuole color correggere in questo caso vedete che con lo strumento selezione automatica già mi è stata selezionata questa clip premere ctrl v e vedete che viene applicato lo stesso effetto che avevo applicato prima la fotografia dell'uccellino anche a quest'altra a quest'altra immagine c'è chiaramente un metodo ancora migliore per applicare una color correction a tutta la sequenza ed è molto semplice consiste nell'utilizzare quello che viene chiamato livello di regolazione che per mancanza di tempo vi illustrerò meglio nel dettaglio nel prossimo video vi ricordo www.fabioambrosi.it vi consiglio se vi va di iscrivervi a questo canale youtube cercatemi su facebook perché presto tante novità arriveranno e gli annunci verranno fatti sulla mia pagina facebook cercate Fabio Ambrosi alla prossima lezione